L'atletico Rocca Massima vuole uscire dal tunnel che ha pericolosamente imboccato da un mese a questa parte dopo 5 vittorie consecutive nelle prime 5 giornate. Di fronte avrà l'Antonio Palluzzi, un avversario che ha i suoi stessi punti in classifica e che ha tutta l'intenzione in questo pomeriggio di vendere i caralapè. E' tutto pronto dunque per assistere a questo inizio di partita. Attenzione possibilità adesso per la formazione dell'atletico Rocca Massima con il numero 3 per due volte e poi c'è il gol da parte di Coppola era stato Delferraro. Adesso c'è la solida incursione da parte di un incontentibile Delferraro che poi arriva fino alla capolinea Delferraro Show. Lo stesso Delferraro finora indiscusso protagonista di questo match. Mette per Gentili, schema che riesce alla perfezione. Difficile da rimontare per la formazione dell'Antonio Palluzzi che ci ha provato con Foglietta che colpisce il palo, incredibile. Ancora una chance e il gol da parte del numero 5 Santone, bravissimo. Se ne va perna, è circondato da una serie di maglie bianche, finta da parte di Marconi che finalmente riesce a liberare il suo sinistro ed è un sinistro terrificante, un sinistro che fa male, un sinistro che riapre la partita perché siamo adesso 3 a 2. Chiude ancora la trattoria del passaggio Pagnanello e poi c'è il gol incredibile, disattenzione difensiva però della squadra dell'atletico Rocca Massima che subisce il gol del 3 pari che prende la rincorsa. Direttamente in porta e trova l'incrocio Delferraro. Ancora un pallone interessante da parte di Gentili, che giocata da parte di Gentili che mette in condizione di segnare il più facile dei gol, il proprio compagno di squadra che riesce dunque a portare il risultato sul 6 a 3, rete realizzata da Pagnanello. Fischio che arriva in questo momento, parte Marconi, le tira il gol. Dunque 6 a 4, Marconi. Attenzione, possibilità adesso per il palluzzi e c'è il gol da parte di Foglietta che riesce a mandare a vuoto con questa scucchiaiata morbida, con questo lob, tutta la difesa dell'atletico Rocca Massima. A questo punto torna ad essere nuovamente in bilico il risultato, 6 a 5. La situazione falli potrebbe fare la differenza in questa partita. Marconi fa filtrare questo pallone per Foglietta. Ancora Marconi che non perdona e riesce dunque a centrare il pareggio. Chiusura difensiva, 2 contro 1 per Antonio Palluzzi. Attenzione, Foglietta e gol! Incredibile! Incredibile, capovolcimento di fronte, situazione ribaltata rispetto a 10 minuti fa. Lunga rincorsa, il tiro e la parata di Saccucci. Ancora una volta strepitoso in questa circostanza, Saccucci. C'è ancora una volta Quirino Marconi che addirittura potrebbe dare il più 2 all'Antonio Palluzzi. Tiro di Marconi, ancora una volta trova l'incrocio dei pali. Quirino Marconi è riuscito con un tiro telecomandato ad infilare il portiere avversario Mozzetti ed è dunque 8 a 6. Finisce qui, finisce dunque il match con l'incredibile vittoria da parte dell'Antonio Palluzzi che espugna il campo dell'Atletico Rocca Massima. Antonio Palluzzi che era praticamente spalle al muro sia nel primo tempo che nella ripresa. Sotto di tre gol è riuscita con una grande forza di carattere, con una grande determinazione a sovvertire, a ribaltare tutto e a portare dunque in Cascina tre punti pesantissimi nell'economia di questo campionato.